Parliamo con i giovani, soprattutto con loro, costruire, qui si è scritto il sud che stiamo costruendo, io dico soprattutto quello che dobbiamo costruire insieme, perché la sfida del mezzogiorno è una sfida essenziale per il paese e per l'Europa, quindi stiamo qua a dire quelle cose che sono state fatte di positivo, l'inversione di tendenza, ma quanto ancora bisogna fare per rendere il sud, il nostro paese, ma il sud centrale nelle politiche europee. La formazione è essenziale, quindi la sfida che abbiamo in Europa significa costruire i giovani sempre più preparati a tutte queste sfide che abbiamo. La fortuna è avere che non solo siamo la regione più giovane d'Italia, il sud è l'area più giovane d'Europa in termini di presenze, e quindi il capitale umano è fondamentale, le sfide verranno fatte su di loro, e quando abbiamo la mobilità passiva purtroppo, quando i giovani capaci vanno via, hanno grande successo, quindi vuol dire che noi abbiamo una buona formazione.